Eccolo. Eccoci! Buonasera! Buonasera. Come sta? Bene. E' pronto per questo momento intensivo con i ragazzi della chat? Bene, vediamo come va. Chat, vi presento il dottor urologo andrologo Giuseppe Lapera di Roma, giusto? Giusto. Ho detto tutto perfetto? Il dottore mi ha contattato tramite un ragazzo che mi segue perché aveva visto delle clip della mia circoncisione e mi ha detto facciamo una live su questo tema, sulla circoncisione, sulla Fimosi perché tanti ragazzi giovani e meno giovani vengono da me, non sanno e la Fimosi è una problematica che si può risolvere facilmente ma bisogna risolverla diciamo il prima possibile o comunque nell'età giusta. E quindi questo è un po' il motivo per cui siamo qua. Io ho raccolto anche le domande dai ragazzi della chat e devo dire che ho capito che c'era proprio bisogno di un intervento di questo tipo, non di circoncisione, un intervento a parole intendo, di questo tipo perché tante delle domande sono proprio quelle che faresti, cioè che non hai paura di fare ai tuoi genitori, hai paura di fare al medico, invece così in forma anonima l'hanno lasciata lì e quindi dopo andremo anche a leggerla. Risponderemo a tutte le domande successivamente, adesso parleremo un po' in generale. Oh ya! Quindi iniziamo a dire, la prima domanda che le faccio è la più ovvia. Che cos'è la Fimosi? Ecco, questa è una bella domanda perché diciamo la Fimosi è un restringimento del prepuzio, cioè quella parte di pelle che circonda il glande e questo restringimento determina due problemi fondamentalmente. Il primo, durante la retrazione della pelle, la difficoltà a scoprire il glande e il secondo, molto frequente ma poco descritto diciamo così, è il fatto che questo restringimento pur consentendo di scoprire il glande, nella fase di erezione crea dei problemi di scorrimento della pelle per cui al momento dell'erezione quest'anello che costringe sotto il glande crea problemi durante l'attività sessuale e si vede soltanto durante l'erezione, per cui se uno fa una visita, normalmente quando uno fa la visita il pene è a riposo, questa parte non si vede, quindi io c'ho fastidio, viene visitato e non c'era la Fimosi. Questa si chiama Fimosi relativa, cioè una difficoltà di scorrimento del prepuzio dovuto a un anello che stringe sotto il glande. Diciamo che in grosso modo questo riguarda un 20-30% dei casi, delle persone che poi vengono a operare. Ah, ok. Questa come definizione, quindi la difficoltà di retrarre il prepuzio dovuto a un'astenosi, cioè a un restringimento dell'apertura del prepuzio e questo restringimento può dare anche delle difficoltà di scorrimento della pelle. L'ho capito. E di Fimosi ce ne sono dei tipi diversi però, se ricordo bene dalle analisi che avevo fatto io, dagli studi. Beh, ci sono vari tipi di Fimosi, adesso sto preparando una nuova classificazione della Fimosi, però quello che volevo invece puntualizzare, che è importante, siccome l'argomento è la circoncisione, che qui noi parliamo di questa cosa, non della circoncisione fatta per motivi rituali o religiosi, cioè quella che viene fatta a pochi mesi, a pochi giorni dalla nascita. Noi parliamo di quella condizione medica dovuta alla Fimosi che porta alla necessità di fare un intervento chirurgico, perché sono due posizioni diverse. Uno riguarda la cultura, la religione e le scelte familiari e individuali, sulle quali noi qui non siamo, come dire, competenti. Sì, non ci riguarda questo aspetto. Ecco, io sono qui chiamato in veste di tecnico, di chirurgo che si occupa di questa cosa, laddove c'è una patologia. Tra l'altro questo apre un grosso dibattito, perché mentre la circoncisione per motivi medici è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, la circoncisione per motivi rituali non è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale. E quindi questo crea poi tutto un mercato clandestino, perché non tutti possono permettersi di poter pagare in clinica questo intervento, e quindi persone non qualificate fanno questo tipo di intervento in condizioni igieniche pericolose. E qualche volta è successo che sono successe delle disgrazie di bambini che sono morti, perché poi c'è una emorragia che sarebbe banale correggerla sul tavolo operatorio in una struttura pubblica, in una struttura sanitaria, e magari in una casa diventa un dramma. E questo, diciamo, apre tutto un dibattito, che voglio solo citare, ma non ci dobbiamo adesso ad entrare, sul fatto che lo Stato italiano non rimborsa questo tipo di circoncisione fatta per motivi religiosi. E qui si scontrano due diritti, cioè il diritto alla salute, per il quale non viene rimborsato, perché dicono, scusate, noi abbiamo già pochi soldi, e quindi i soldi li spendiamo per la malattia, non li spendiamo per quello che è malattia. E quindi questo è l'articolo 32 della Costituzione, e quindi il diritto alla salute, difesa di questo diritto costituzionale. Ma dall'altro c'è un altro diritto, che è il diritto di culto altrettanto garantito dalla Costituzione italiana. Quindi in questi, diciamo, due diritti fondamentali della Costituzione italiana, però allo stato attuale prevale il diritto alla salute, e quindi del risparmio per tutte quelle spese che non sono strettamente necessarie. E so che, diciamo, non è l'argomento principale, ma sono curioso perché so che dei ragazzi poi lo hanno chiesto. E se si decide di fare una circoncisione non per motivi medici, ma in età già adolescenziale o adulta, magari per motivi di... Estetico. Estetico, di stile, non so se si può chiamare così. In quel caso, ovviamente, non è rimborsato. E di che costi stiamo parlando? Ovviamente dipende dalla clinica, dal posto, però... Beh, ti è ripetente che questo intervento nell'ambito privato implica la sala operatoria, l'adegenza, il materiale di consumo. Poi se si usa questa tecnica nuova che io sto usando in questo periodo, che è una strutturatrice automatica, e se puoi andare su YouTube, sul mio canale, potete vedere che ci si mette un minuto per fare l'intervento, in anestesia ovviamente, e poi ci sono delle visite prima, e poi ci sono delle visite dopo per vedere le medicazioni, e poi c'è l'anestesia e l'anestesista, l'equipe chirurgica, quindi se tu metti insieme tutte queste voci, stiamo parlando di alcune migliaia di euro. Sì, sì, sì. È un intervento, diciamo, non... Almeno questa, secondo la mia esperienza, non è un intervento che per il paziente è invasivo, che l'ho fatto in dei hospital, vai là, fai la cosa, tac tac, però ovviamente hai bisogno della sala di operatoria di tutte le cose che elencava lei. Quando mi metti la sala di operatoria, la clinica, il letto di esigenza, il personale di sala di operatoria, e qui tutte le spese che c'hai. Chiaro. E invece, scoperto dallo Stato, io ovviamente non so quanto pagai ai tempi, ma l'ho fatto in ospedale. Allo Stato, il servizio di andario nazionale rimborsa, però intanto, sono tutte procedure ambulatoriali. Bisogna mettersi in lista e vedere chi la fa, perché attualmente, col fatto che c'è stato il Covid, tutto quello che non è tumorale ha subito enormi ritardi. Perché hanno già subito dei ritardi, per le sale operatorie, ovviamente ne sto parlando, quelli che hanno il tumore. Perché un anno, quelli che avevano il tumore, hanno avuto problemi a ricoverarsi. Quindi sono accumulate liste d'attesa importanti, che hanno fatto slittare ulteriormente quelli che sono gli interventi chirurgici e non tumorali. Io sinceramente non ho memoria, ma non credo di aver aspettato tanto. Penso di aver aspettato due, tre mesi, quattro, una roba del... Cioè, non ricordo di aver aspettato tanto, ma qualcuno nelle domande invece mi diceva sono in lista d'attesa da un anno e mezzo. Quindi... Perché tra l'altro, i rimborsi regionali sono molto modesti. Cioè, alcune regioni, adesso non so il Piemonte, ma nella regione Lazio, per quello che ricordo io, adesso potrei dire una cosa imprecisa, insomma, ricordo che il rimborso che la regione Lazio dà all'ospedale è di alcune centinaia di euro. Se noi consideriamo che la suturetrice automatica che serve per fare l'intervento in un minuto, solo quella costa 300-400 euro... Eh, non rimane più... A me l'avranno fatto a mano, eh, ma ormai 13 anni fa. Diceva, adesso c'è questa innovazione tecnica che rende l'intervento sicuramente più rapido. Cioè, passiamo da 30 minuti a un minuto. Sì. Il dolore viene abbattuto completamente, non c'è né prima né dopo. Il sanguinamento è ridotto. E poi l'elemento più importante che c'è questa suturetrice automatica è l'aspetto estetico. Eh, rimane un bel taglio. Con l'intervento chirurgico manuale diciamo, avviene qualche volta che rimangono dei salcicciotti, chiamiamole così, dei bozzetti, perché tra un punto e l'altro della sutura si gonfia quella pelle e quindi rimane una specie di salcicciotto. Adesso la parola tecnicamente non è questa ma per capirci. Sì, sì. Ma c'era un ragazzo che sempre ne ha domani diceva mi hanno cercato ma ho dei lembetti di pelle piccoli extra. Questo può succedere perché la sutura a mano può in alcuni casi dare questo effetto. No, ho capito. Mentre invece la pulivatrice automatica siccome è un taglio netto perché c'è proprio una specie di si applica, stringe e è finito. Cioè, sicuramente più la durata del taglio e della sutura in tutto sono 30 secondi, 40 secondi. È proprio un lavoro bello pulito, bello minuzioso. Sì, se vai di diretta a vedere su YouTube sul mio canale c'è proprio ti faccio vedere in diretta questo intervento. Molto interessante andrò a consultare tanto ormai io sono a posto. Sì, parliamo un po' della tua esperienza invece. Ecco, ma prima di questo volevo ancora precisare una cosa perché tantissimi l'hanno chiesto e anche in chat può dare dei suggerimenti su quali sono le cose che uno dovrebbe guardare su se stesso per capire che probabilmente ha bisogno di un intervento. Ovviamente la cosa migliore è fare una visita, questo è chiaro. Però il passo ancora prima di dire forse devo controllare, devo farmi controllare. Allora facciamo un passo ancora prima di questa cosa che tu hai detto. Tutti i ragazzi dall'età di 14 anni in poi una volta all'anno si devono far visitare dall'andrologo. Questo è il primo fatto perché non c'è solo la fimosi. Ci sono moltissime altre patologie e la visita all'andrologo consente di controllare il normale sviluppo dell'apparato genitale e intervenire laddove è necessario, avere un punto di riferimento per cui uno può fare delle domande con uno che conosce il problema perché non dimentichiamoci che nell'ambito dei compagni di scuola, di classe eccetera c'è un bullismo con delle fake news io c'ho questo a quella io ho fatto raccontano un sacco di cavolate quindi avendo una persona di riferimento che ti vuole bene che non ti vuole spaventare che sta lì per risolverti i problemi è fondamentale tu hai un tuo spazio per poter controllare tutto questo perché cosa succede? Che i genitori arrivati a 14-15 anni perdono il controllo della salute dell'apparato genitale del figlio perché nessun ragazzo a 15-15 anni si fa spogliata dalla mamma o dal papà io ho visto dei video ah no però forse erano altri tipi di video prego e quindi che cosa succede? che i ragazzi sono praticamente abbandonati e quindi se va tutto bene è una fortuna ma se c'è un problema qualcuno viene invitato dal genitore sicuramente ma i stessi genitori non lo sanno che cosa sta succedendo lo sviluppo in quegli anni e lì può succedere diciamo delle cose molto spiacevoli cioè che nella ricerca della soluzione i ragazzi possono cadere preda di qualcuno che li usi possono utilizzare sostanze stupefacenti oppure perdere l'autostima insomma dare incontro a una serie di problemi psicologici e sociali inutili quando una semplice visita fatta regolarmente una volta all'anno dai 14-15 anni in poi risolve questo problema perché come ho detto uno può avere la fimosi ma la fimosi si sa doveva la circuncisione in un minuto un minuto e io diciamo ma non c'è tutto solo quello ci sono poi tutte le tante domande che i ragazzi vogliono sapere e allora per esempio TikTok non sempre o Youtube o altri non sempre ti danno delle risposte complete perché su questi su internet noi abbiamo noi abbiamo tante informazioni e non abbiamo però gli strumenti cioè mediamente parlo non certo uno specialista ma insomma un ragazzo o un uomo non so una persona normale non ha gli strumenti per soppesare lo spessore di quell'informazione cioè quanto pesa questa cosa per cui o uno si spaventa inutilmente o sottovaluta oppure c'è poi delle cose che vengono proprio interpretate male anche se lì si hanno scritto in un'altra maniera quindi il modo migliore per crescere serenamente e risolvere questi problemi che ti danno la possibilità di vivere una vita normale è quella di iniziare a 15 anni una visita dall'andrologo per controllare l'andamento dello sviluppo buberale per diagnosticare delle anomalie e qui apro la parentesi queste anomalie sono presenti tra il 50 e il 70% io dico ai ragazzi che se hanno un problema non pensiate che siete l'eccezione la regola è che dal 50 al 70% dei ragazzi a 18 anni ha un problema più o meno grave dell'apparato genitale e questo lo dico con una voce bibliografica perché se no dici ma chi l'ha detto chi l'ha scoperto lo dico per dare il peso non solo ai ragazzi ma anche ai genitori che pensano che un ragazzo sia sempre performante per cui se non c'ha 40 di febbre non bisogna portarlo dal medico ma anche per i decisori politici allora io ho fatto degli studi nell'area di Ladispori e di Ostia visitando con altri 15 colleghi tutti i ragazzi dei 15 a 18 anni e bene su questa popolazione molto vasta abbiamo trovato il 56% di ragazzi con una problematica all'apparato genitale più o meno grave alle volte una patologia altre volte due patologie e talvolta anche tre o quattro patologie questo poi in accordo con un altro studio importante fatto quando c'era la visita di Leo cioè prima del 2005 dove su una popolazione di 12.000 reclute quindi non selezionate capitate lì per caso solo in base all'età la presenza di una patologia all'apparato genitale era del 70% cioè normali erano del 30% per patologia si intende anche cose non gravi cioè non è che sono roba grave ma anche cose che si possono aggiustare facilmente adesso le elenchiamo e noi ci abbiamo una di queste è sicuramente la fimosi chiaro poi c'è il frenulo corto poi c'è il varicocele poi c'è il testicolo in ascensore poi ci sono tutti quelli che sono i disturbi funzionali e cioè un disturbo dell'elezione un tardivo sviluppo puberale cioè i ragazzi non sviluppano c'è una lista lunghissima di patologie stiamo parlando di 20-30 patologie che possono essere nella stragrande maggioranza dei casi intercettate ma che i genitori non sanno che esistono e quindi non lo portano dall'urologo mentre invece la figlia la portano dal ginecologo tant'è che noi abbiamo fatto un altro studio sempre che ho fatto io insieme ad altri colleghi nelle scuole del Lazio intervistando i ragazzi e su mille ragazzi che abbiamo intervistato abbiamo chiesto se tu avessi un problema all'apparato genitale da chi andresti e c'era una lista di specialisti poi abbiamo fatto la stessa domanda a mille ragazze se tu avessi un problema all'apparato genitale da chi andresti allora le ragazze hanno risposto al 95% ovviamente dal ginecologo i ragazzi hanno dato questa risposta solo nel 28% dei casi quindi nel 70% dei casi i ragazzi manco sanno da chi andare sanno un problema si ma infatti quando io ho detto che ci sarebbe stato lei ma urologo chi? cos'è? è un problema e poi è anche gonfiato da non so diciamo il fenomeno sociale per il quale l'uomo deve essere quello che performa quello che ha in questo caso letteralmente il cazzo dritto niente gli va male e non ama i problemi tu sei giovane voglio dire e quindi non hai vissuto gli anni della pubblicità che io racconto che a noi ci ha rovinato la pubblicità di un dopo barba che si chiama denim che era l'uomo che non deve chiedere mai no no ci ha rovinato perché ha accreditato l'immagine di un uomo perfetto che è sempre performante e che tutte le donne stanno lì quest'uanti in attesa che quest'uomo le guardi in qualche maniera e invece non è vero perché gli uomini hanno le loro fragilità ma la buona notizia e questo è il punto la buona notizia è che nella sta grande maggioranza dei casi si può risolvere se si sa diciamo che esistono e se si fa qualcosa perché ad esempio io se non mi sono trovato a fare all'amore ai 17 anni e niente non entra cioè faccia male ho detto bisogna fare qualcosa poi non so se ho googlato non so come ho dedotto questa cosa fatto stare che un giorno sono andato a mio padre e ho detto papà devo farmi circoncidere e lui mi ha risposto parlane con tua madre dopodiché non ho parlato come madre il fatto come ho detto è culturale c'è questi due aspetti il problema non è tecnico va bene il problema è culturale e politico culturale perché i genitori la popolazione deve capire che esiste un problema e che può essere risolto e che ha delle gravi conseguenze negative sul sereno sviluppo dei ragazzi e sulle loro scelte future e diventa politico perché la politica in questo momento non è motivata a seguire questo percorso perché ricordiamoci bene i ragazzi a 15 anni non votano quindi non sono un target per la classe politica e quindi il politico non li vede proprio certo altrimenti perché si veroccano molto spesso di tutte le patologie le problematiche femminili meritoriamente va bene non è che dobbiamo sostenere queste inizie però lì c'è un vantaggio dalla parte della classe politica che in qualche maniera raccoglie i voti del mondo femminile e di un certo tipo di cultura parlando invece dei 15 e 16 anni che voti possono prendere quando voi gli stessi genitori manco sanno il problema e quindi manco pongono il problema al politico di riferimento apro una parentesi che è una cosa che dobbiamo dire dopo ma ormai questo è il discorso finiamolo qui e poi riprenderemo l'intervista perché c'ho da dire tantamente tante cose noi siamo qua per lei tutto il tempo che ha lei ho 40 anni di esperienza di lavoro di battaglia che ho fatto e una di queste battaglie è stata quella di raccogliere delle firme per far fare nella regione Lazio una legge di prevenzione andrologica che prevede appunto una visita gratuita a tutti i ragazzi ho coinvolto le associazioni dei pazienti l'associazione dei medici l'associazione dei specialisti e poi mi sono interfacciato con tutte le forze politiche questo nel 2019 ho raccolto più di 15.000 firme nella regione Lazio e questo ha prodotto nella regione Lazio nel 2019 a novembre la prima legge probabilmente nel mondo che prevede una visita gratuita a tutti i ragazzi tra i 15 e i 24 anni poi purtroppo è successo il Covid c'è stata tutta una serie di problematiche tecniche che adesso non sto qui a raccontare ma sarebbe troppo lunga anche interessante ma è più per gli addetti ai lavori il fatto sta che la legge comunque è stata approvata all'unanimità di tutte le forze politiche ovviamente il PD Forza Italia 5 Stelle la Lega sono tutti i gruppi politici all'unanimità hanno votato questa legge proposta dal consigliere Patanè che è stato il primo firmatario poi sono aggiunti anche altri firmatari della a questa legge e quindi la legge c'è però ancora non è partito nessun programma però intanto qualcosa è cambiato sì sì ma è un tema in attesa che le istituzioni in attesa che le istituzioni come dire si muovano io consiglio a tutti i ragazzi di fare una visita andrologica e i genitori di portare il proprio figlio da un andrologo ecco noi facciamo questa live che è già un passo nel passo culturale un passo importante diciamo così la stampa ha un ruolo vicario importantissimo perché va a vicariare un ruolo istituzionale attraverso l'informazione certo certo e infatti direi torniamo al tema caldo la tua esperienza raccontami invece la mia esperienza allora tu hai detto che l'hai parlato con tuo padre va bene si ha detto mio padre ma che allora diciamo a 17 prima dei 17 anni non allora secondo te l'intervento chirurgico ha migliorato lo scorrimento della pelle ah ma proprio un questionario un questionario di gradimento si certo si perché prima non vabbè un migliorato dopo l'intervento chirurgico di circoncisione la sensibilità del glande è cambiata sostanzialmente o è rimasta uguale o è peggiorata o è migliorata ma io ritengo che sia peggiorata ma è una domanda molto difficile perché è proprio avendo io avuto una fimosi serrata dove il mio glande non l'avevo mai neanche visto proprio e ovviamente la sensazione non lo puoi sapere è molto diversa la sensazione sicuramente nel corso del tempo credo che sia diminuita ma è una cosa che puoi gestire e secondo te la durata del rapporto sessuale dopo la circoncisione si è modificata? impossibile rispondere perché non ho mai potuto avere uno prima sia perché non mi cagava nessuno sia perché il pipo non entrava e come giudichi la qualità dell'orgasmo adesso in questa situazione da circonciso? è bello cioè è buono ma era buono pure prima cioè è diverso sono passati un sacco di anni è rimasto buono sì sì l'orgasmo è rimasto buono infatti ci sta ogni sera poi dal punto di vista estetico come giudichi il risultato raggiunto? splendido splendido non rida non rida non rida è bello è bello il pene circonciso è bello dobbiamo rassicurare tutti quei ragazzi che ci stanno guardando che hanno paura perché il problema principale di questo intervento è che i ragazzi hanno paura di quello che succederà dopo e vogliono essere garantiti garantiti che la loro vita sessuale non peggiorerà sicuramente l'esperienza di una persona è questo il concetto cioè perché siamo qui a raccontare questa cosa perché il tema principale che io vedo quando vengono da me ecco perché che mi raccontano le centinaia di ragazzi che ormai migliaia che stanno parlando di 40 anni di lavoro è la paura quindi dobbiamo raccontare loro che cosa accadrà dopo e che cioè non ci sarà un qualcosa che cambierà la loro vita sessuale ma ci sarà un miglioramento perché dalla fine perché prima era impossibile impossibile certo o impossibile o pericoloso comunque quindi esatto che dal punto di vista igienico ci sarà un miglioramento enorme perché la pulizia sarà quella ci sarà una riduzione della probabilità della riduzione ma non assenza quindi sono sempre preservativo ma una riduzione della probabilità della trasmissione di malattie sessuali una riduzione della probabilità di avere un cancro del pene quindi tutta una serie di benefici appuntissime però bisogna in qualche maniera guidare accompagnare in questa esperienza con una persona che conosce le cose questi ragazzi a fare questo passo perché poi tra l'altro questo le condizionerà in maniera negativa nella scelta della compagna perché a quel punto se hanno una compagna devono intanto tenere la luce spenta e poi alcuni evitano oppure si prendono ragazze di minor valore rispetto a quello che loro potenzialmente possono aspirare in base alla loro cultura studi sensibilità si accontentano perché allora siccome tutto questo nasce dalla paura il racconto di chi c'è passato ecco che ho detto dal punto di vista estetico mi hai detto va bene la qualità dell'orgasmo com'è? secondo te buona buona allora se tu dovessi considerarla a un amico lo faresti? diciamo se non ne ha bisogno no ma se neanche solo minimamente bisogno è una cosa che non cioè praticamente non ha effetti negativi e comunque se ce n'è bisogno è super cioè va fatto va fatto e non c'è niente di grave non c'è niente di pericoloso almeno dal mio punto di vista allora dovendo dare un voto da 1 a 10 quanto complessivamente sei soddisfatto dell'intervento chirurgico di concessione eseguito 5-6 anni fa 10 anni fa non mi ricordo 13 anni fa ma io direi solo l'intervento o tutta l'avventura? da 1 a 10 dove 10 è il massimo cioè sei pienamente soddisfatto e 1 invece sei totalmente insoddisfatto ma io direi un 9 e mezzo 9 e mezzo che 10 non si dà mai non si dà mai beh sì qualche problema poi ci sono da seguire ma insomma sono piccole cose che si seguono sì se posso aggiungere una cosa è che un altro fattore secondo me che ti fa crescere di farti circoncidere perché poi lo fai a 15-16-17 anni e che tu lì sei timido cioè anche se adesso c'è internet facciamo tutti i gradassi sei timido l'idea di tirare fuori il tuo pistolino con le infermiere che te lo smanacciano cioè è una cosa che ti cioè dici senti è un cazzo dai controlliamo stiamo tranquilli non c'è niente di male cioè ti fa anche ti toglie un po' il tabù della nudità della oddio invece una parte del corpo va benissimo è un cazzo è un cazzo questo è il mio riassunto che secondo me è una cosa che è buono imparare a quell'età lì sì torniamo a dire ai ragazzi fate chiedete ai vostri genitori di fare una visita dall'andrologo e diciamo ai genitori portate vostro figlio a fare una visita dai 15 anni perché fino a 14 anni c'è un buon controllo sia dei genitori che ancora fanno lo spogliano i ragazzi sia del pediatra sull'apparato genitale e questo dato si esprime anche in un altro importantissimo dato che io ho messo in evidenza in un mio studio e cioè che in Italia per quanto riguarda il tumore del testicolo quindi stiamo parlando di malattie serissime fino a 14 anni negli ultimi 15 forse 20 anni adesso non ricordo esattamente il numero ma insomma abbondantemente oltre i 10-15 anni non ci sono più morti per cancro del testicolo perché fino a 14 anni perché essendoci una sorveglianza o del genitore o del pediatra la diagnosi è estremamente tempestiva e precoce per cui la cura è realmente efficace ed evita poi tutti quei casi che vanno incontro a metastasi poi la chemioterapia e qualcuno muore mentre invece tutti i casi di morte che avvengono in Italia dopo i 14 anni avvengono tutti dopo i 14 anni chiaro è importante una cosa da tenere vuol dire che manca un controllo sull'apparato genitale perché tra i 15 anni in poi fino a che poi non vada a 18-19 anni dal medico di famiglia il ragazzo non lo segue raramente non è che zero però non c'è un fatto è vero non c'è proprio è proprio uno non ci pensa ma la differenza che c'è fra la ragazza che va dal ginecologo che arriva il ciclo c'è una cosa data per scontata invece l'equivalente non c'è per l'uomo proprio per niente c'è per l'uomo a fronte di quello con il dato che ho detto prima e lo ripetiamo che esiste una patologia dell'apparato genitale che va dal 50 al 70% sì 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 quindi che servirebbe e uno ha comunque un piccolo problema che poi c'è anche un'infiammazione del glande che è una balanopostite che si cura con una cremina però questa cosa è frequentissima quindi da cose banali la balanopostite ha patologie molto più serie che hanno non solo un danno biologico va bene ma hanno delle conseguenze psicologiche sociali sull'autostima dei ragazzi e sul loro modo di proporsi rispetto all'incontro con la partner ed anche sociali perché poi uno a quel punto ha una ricaduta sociale enorme sia della scelta della partner che poi se uno si sposa o fa un figlio con la donna sbagliata è un guaio si deve poter sentirsi a suo agio con se stesso non deve avere un pensiero uno prende la patente a 18 anni se tu te prendi la patente a 50 si si può fare certamente ma se verso un mondo non hai girato il mondo non hai fatti i viaggi questa l'apparato genitale deve stare in ordine in maniera una persona possa fare tutte le sue esperienze capire come è la vita e poi scegliere la persona giusta sulla base poi ovviamente la sensibilità cultura esperienze tutte queste cose qui si perché poi già ovviamente in quell'età in particolare hai l'ansia no la prestazione perché senti le storie hai uno chiave a dei 50 quindi già c'è quell'ansia lì di base secondo me che ci sta secondo me fa parte del crescere va bene però non deve è un vero peccato aggiungere delle altre ansie eh ma poi io ho questa cosa qua allora preferisco magari non fare non vedere cerco di ma poi se c'è un problema così importante diciamo rilevante va bene è lasciato da solo il problema cresce monta perché non si è aiutato e questo poi va incidere anche sulla tua scelta professionale perché a quel punto non te dedichi a studiare di economia di medici perché c'è un problema fondamentale sì sì è vero è un elemento fondante comunque dell'esistenza della sessualità quindi è meglio averla in ordine allora vediamo qualche domanda dai ce l'abbiamo sì ce l'abbiamo vogliamo fare forse prima delle domande tanto secondo me in un 20 minuti un quarto d'ora le facciamo tutte abbiamo quindi io dicherei un quarto d'ora a spiegare l'intervento in che cosa consiste e anche che cosa c'è dopo così perché tanti mi hanno scritto devo andarla a fare non so bla bla se riusciamo a fare un recap da parte sua di un po' quello che succede cosa aspettarsi eh questo fa parte un po' delle domande sì sì ma infatti quelle non le ho evidenziate cioè perché sapevo che avremmo fatto scusa se siccome le domande spesso mi chiedono questo quanto dura l'intervento vediamo le domande poi stai facendoci gioco io vabbè perché le domande sono tipo 250 quindi io ho già filtrate ma però allora voglio dire quelli che non possiamo rispondere a tutti ho detto se vanno sul mio canale youtube giuseppe la pera urologo e andrologo e me le fanno là sopra io nei limiti possibile cercherò di rispondere a tutti va bene allora facciamo prima le domande così e poi in caso aggiungiamo aggiungiamo alla fine prendo spunto alla domanda per aprire sì esatto ci sta ci sta alcune sono molto veloci ma uno dei temi di cui non abbiamo parlato ma che invece c'è molto nelle domande e ci viene chiesa è consigli per migliorare l'ejaculazione precoce ed è una domanda di Usain Bolt ho chiesto di mettere un nickname e fanno ridere lo dico prima no ma va bene perché il problema dell'ejaculazione precoce è un problema molto frequente tra i ragazzi intanto definiamo cos'è l'ejaculazione precoce vi dovete fare una domanda ragazzi vi capita di avere l'ejaculazione prima di quando vorreste se uno ha l'ejaculazione prima di quando vorrebbe ha l'ejaculazione precoce perché nella norma il rapporto sessuale deve durare tutto il tempo che l'uomo decide se vuole stare 5 minuti 10 minuti 1 ora 2 ore 3 ore è l'uomo che decide perché c'è un riflesso volontario che si può controllare ora nell'ambito dell'ejaculazione precoce molto spesso si è riportato che il frenulo corto o la fimosi o anche solo fare la circoncisione potesse avere un beneficio allora qui dobbiamo portare dei dati i dati dicono che nel trattamento dell'ejaculazione precoce le cosiddette linee guida delle principali società scientifiche europee non raccomandano la circoncisione perché non ci sono studi controllati che in qualche maniera risolvono questo problema perché poi c'è una componente importante come ho detto e cioè il controllo volontario prendiamo l'esempio della pipì uno avverte lo stimolo che dipende da quant'acqua uno ha bevuto o se fa caldo se è sudato eccetera però a un certo punto c'è un controllo volontario dovuto a una serie di muscoli che bisogna imparare a utilizzare che consentono di bloccare i riflessi e di non farsi la pipì sotto e di non bagnare lo stesso vale per le feci per l'aria dell'intestino ma infatti io dico questo sull'ejaculazione precoce io cioè riconosco che è possibile controllare però mi succede quasi la cosa contraria cioè se io continuo a a tenere a bada la cosa poi però è anche e cioè è difficile mantenere l'equilibrio tra avere la prestazione il mantenimento dell'elezione e la durata ma questo è un altro film capito questo è un altro film ok il primo film è sapere che l'attivazione di alcuni muscoli del pavimento pelvico e uno deve impararli a usare selettivamente va bene consente di rinviare nel tempo il riflesso di iaculatorio quindi la circoncisione non va a incidere su quello che uno ha capito perché uno che ha capito ce l'ha nel cervello chiaro ecco per come funziona quindi come ho detto nel problema del meccanismo di iaculatorio ci sono due momenti uno è l'arrivo dello stimolo cioè una donna particolarmente eccitante è un mese che non faccio sesso quella si muove bene c'è un'anatomia specifica per cui il bacino maschile entra bene dentro il bacino femminile e quindi fa tutta la corsa quindi tutto questo è molto eccitante rispetto a quindi quello fa venire presto lo stimolo tutti gli uomini sanno che si devono fermare contrarre i muscoli del pavimento pelvico in un certo momento e qui c'è tutto un training da fare ma qui dobbiamo fare un'altra trasmissione sull'eaculazione precoce e quindi questo training consente di imparare a bloccare il riflesso e iaculatorio contrarendo questi muscoli così come si contrae i muscoli per bloccare la pipì o bloccare le feci quando uno ha lo stimolo oppure l'aria nel intestino se uno si ha mangiato due kg di fagioli ok ora questo training si impara va bene io ho fatto anche con uno studio questo cioè i ragazzi che prevalentemente da ragazzetti praticavano la masturbazione al bagno in piedi quelli più frequentemente hanno l'eaculazione precoce perché stando in piedi questo muscolo non lo trovano quelli invece che generalmente si masturbavano nel letto stando sdraiati e quindi con più tranquillità potendosi concentrare sulle sensazioni perché devi imparare la sensazione dell'arrivo dello stimolo e fermarti prima che lo stimolo si devi conoscerti comunque esatto mentre invece uno sta in piedi al bagno con la madre che circola per casa che tanto sa tutto ha capito tutto e che dice dobbiamo andare dall'oculista tutto sta vabbè quindi non c'è quell'attenzione per capire qual è la sensazione in cui poi bisogna fermarsi contrarre il muscolo e bloccare il riflesso allora in tutto questo torno a dire andare a togliere un pezzetto di pelle non serve a nulla ok e aggiungo il trattamento nel trattamento delle principali società scientifiche europee di urologia ovviamente o del settore non raccomandano la circoncisione come trattamento di equazione precoce perché a quel punto noi abbiamo due tipi di trattamento uno è quello di rallentare lo stimolo con dei farmaci ok così come uno cerca di non avere lo stimolo a fare pipì bevendo meno acqua quindi il farmaco rallenta l'arrivo dello stimolo e l'altro invece imparando a utilizzare i muscoli del pavimento pelvico avendo capito questa sensazione di quando lo stimolo sta per diventare irreversibile e scatta e a quel punto arriva l'innovazione cioè perché l'idea è che quando senti che lo stimolo è lì per spingerti la sensazione è di spingerti giù dal burrone sei lì tu ti cioè stoppi lo stimolo rallenti lo stimolo devi fermare ah ok ok e lì poi sei nel chill puoi ricominciare devi fermare e stringere i muscoli il pavimento pelvico e tenere la contrazione tutto il tempo fino a che non ti passa la sensazione dell'orgasmo imminente perfetto e questo qua lo so fare benissimo però se dopo tu ricominci e lo senti in punta diciamo così vuol dire che ti sei fermato troppo tardi ok e quindi la volta dopo devi imparare a capire che lo devi fare un po' prima ok ok si può allenare il problema che ho io finisco un attimo questa cosa poi ti ritorno se uno ha imparato a masturbarsi al bagno in piedi davanti allo specchio o seduto sulla tazza perché non c'è tempo di capire questa cosa e quindi va sul campo e non impara nessuno gli lo spiega non è che uno chiede al papà gli dice papà ma come si fa e quindi impara in maniera sbagliata questa cosa e a quel punto è un problema quindi è una cosa che si può io personalmente l'ho allenata segandomi tantissimo e vabbè però perché si fa esperienza il problema che ho io problema non è che sia sempre un problema però una questione che ho io è che una volta che uno si riesce a bloccarsi esatto poi è difficile rientrare nel mood anche mentalo credo sia più una cosa mentale ma questo c'è un po' di pratica va bene però ti ho detto questo è un secondo step però succede è normale in tutti i rapporti c'è questo meccanismo altalenante in cui un po' va su e un po' va giù non è che uno deve stare al 100% duro dall'inizio alla fine capito cioè nella fisiologia del corpo umano non è previsto che uno sta lì 100% e fa le flessioni per tutto il tempo uno si ferma e poi ricomincia bello mi piace questa è l'informazione che tu puoi raccogliere quando vai a fare una visita da uno specialista perché se tu vai a leggerlo su internet c'è scritto anche questo da qualche parte ma c'è tanta altra confusione uno non riesce a soppesare lo spessore di quell'informazione che serve a te e al caso tuo specifico ed ecco perché lo spazio che ti viene riservato in una visita è uno spazio tutto tuo ed è necessario e i genitori questo qui manco lo sanno manco lo capiscono e poi questa cosa qua è anche interessante secondo me per entrambi i sessi cioè sarebbe anche prezioso che sia gli uomini capissero delle cose delle donne e che le donne capissero delle cose degli uomini di modo che ci sia anche un linguaggio comune una comprensione più vasta di che cos'è l'atto sessuale direi che però di andare avanti con le domande perché se apriamo il capitolo si 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 va bene poi ne facciamo un'altra poi ne facciamo un'altra perché qua sono tutto molto contento un'altra premissione che cosa gli uomini non hanno capito delle donne questa dura due anni allora si può rimediare ad una lieve curvatura al pene senza fare interventi so che è molto comune ma mi dà fastidio questa è una domanda di ponitore di domande serie bene allora noi abbiamo l'asse del pene perché bisogna precisare questo che in erezione non è dritto allora una certa curvatura lui non l'ha specificato che intendeva dell'asse del pene in erezione l'asse del pene in erezione è leggermente curvo allora una certa curvatura ce l'hanno tutti i piselli diciamo tutti i peni e fino a 15 gradi ok non è normale fa parte della variabilità del corpo umano e se tu non devi fare il pornatore per cui devi farlo ingrandire insomma non ti serve che vai a correggere chiaro noi dobbiamo distinguere questa curvatura da altre patologie però se ci riferiamo a quello che si chiama il recurvato un congenito cioè quello che hanno i ragazzi dai 15-16 anni in poi ho detto fino a 15-20 gradi non si deve fare nulla a meno che non c'è un tale disagio psicologico che allora bisogna valutare caso per caso però fino a 15-20 gradi non va trattato 15 gradi a sinistra-destra in alto e in basso ok perché la curvatura in alto e in basso destra più ma ho detto è un trattamento che è solo probabilmente chirurgico perché è un intervento di chirurgia plastica ecco perché parlavo di pornoattore perché se uno deve fare il pornoattore allora è chiaro che deve essere perfetto perché deve essere ingrandito 50 volte lì quando si inquadrano ma in un ragazzo normale qual è il punto fondamentale? che la curvatura non impedisca la penetrazione questo è l'end point il parametro fondamentale quindi se un ragazzo c'è un po' di curvatura ma ancora ha auto zero rapporti sessuali non vale la pena operarlo perché non sappiamo se questa curvatura impedisce la normale penetrazione oppure determini dolore nella partner quindi non solo righello ma anche goniometro per capire se ma io uso il goniometro io uso il goniometro con delle foto che mi portano i ragazzi c'è tutta una tecnica per fare la fotografia del pene in erezione per valutare questa secondo me la conosco in chat ma per altri motivi per misurare l'angolo di riazione ok ok quindi quello che è importante è quanto questo questa curvatura determini tecnicamente una difficoltà geometrica si proprio per penetrare chiaro a quel punto noi dobbiamo aprire però un altro capitolo e questo è importante ci dobbiamo un attimo soffermare e cioè che situazione di bassa autostima situazione di insicurezza che è normale nel crescere tra i ragazzi ce l'hanno tutti ce l'hanno pure i ragazzi in carità quando si hanno queste situazioni si va a cercare nel corpo qualcosa che non va bene allora una volta sono gli occhiali una volta sono gli capelli che cadono una volta quindi qualche difettuccio lo trovi sempre e allora a quel punto uno si fissa ed è convinto che la propria autostima la propria diciamo insicurezza dipenda da sto difetto fisico e quindi si fa un errore ad andare a operare chirurgicamente un paziente al pisello perché dovrebbe essere operato al cervello e non al pisello ecco questo è un bel messaggio secondo me il messaggio è che l'insicurezza e una bassa autostima non passano attraverso la risoluzione di un piccolo problema fisico però in questo la vista dell'andrologo è quello che ti consente di capire fino a che punto fa parte della variabilità umana o se è un problema reale o se è un problema che effettivamente va trattato cioè non è che vi la dà una pacca sulla spalla per dire ma no non ti preoccupare no perché ci sono effettivamente molti casi e io li opero ecco perché sto dicendo che vanno vanno trattati anche precocemente proprio perché danno un senso di insicurezza danno un senso però alle volte è esattamente il contrario cioè non è il sintomo che determina l'insicurezza o una bassa autostima perché chiaramente se uno si vede il pene morfologicamente che non gli piace può avere questa sensazione altre volte invece che uno poi parte dal contrario cioè parte dal cervello c'è una bassa autostima c'è un'insicurezza interiore e lo va a trovare lì il motivo la giustificazione nei capelli che gli cadono oppure nell'altezza oppure in altre caratteristiche del proprio corpo che sicuramente ci sono perché nessuno c'è un fisico perfetto e allora va a dire che quello gli determina il problema però la visita del medico e questo torna a dire i genitori portateci perché serve a chiarire questa cosa perché un ragazzo che cresce con questo problema non è un ragazzo sereno non si può dedicare agli studi alle relazioni a tutto quello che è bello della vita può dare perché c'è un problema che gli dà come dire ansia angoscia dolore che ce l'ha nel retro del cervello e lo disturbo esatto bene andiamo avanti che ce ne sono un po' comunque con selezionato nell'atto il frenulo si deve rompere oppure è solo causa della non re della mancata no no perché questa me la chiedono continuamente è un classico è un classico è un classico allora questa qui è una leggenda metropolitana il frenulo non si deve rompere durante l'atto sessuale e sta storia della virginità è una cazzata totale va bene non è neanche vero per le donne tra l'altro allora questo del frenulo corto è due dal fatto che in alcuni casi è corto in altri è diventato corto perché è molto secca la pelle perché uno si lava troppo allora questo filetto si inaridisce diventa molto secco andrebbe idratato in altri casi si deve operare perché effettivamente dà un problema di scorrimento del prepuzio quello che dicevamo all'inizio certo quindi se durante l'attività sessuale questo filetto tira e fa quello che si chiama l'effetto concordo cioè tira in basso il glande perché è corto e quindi dà un problema di scorrimento quello va trattato poi ci sono alcune ho detto che ci possono essere alcune creme che aiutano ad ammorbidire la secchezza di questo filetto che è troppo in alto e non si deve ammorbidire per niente ma è un intervento che dura 30 secondi cioè il tempo di mettere una goccia di anestetico e tagliare con un bisturi tant'è che ad alcuni si rompe nell'atto quindi ma questo non deve accadere ok perché intanto non è un discorso di virginità come si è detto qualche volta e poi è estremamente antipatico cioè tu non dici sangue una povera ragazza che sta lì e che si spaventa c'è tutto il sangue sul lenzuolo perché poi diventa rosso c'è una scena apocalittica chiaro sì perché perde molto infatti io oltre che ovviamente la fimosi quando è serrata mi confermerà lei c'è anche la sindrome del frenolo corto perché non si è mai allungato ma si fa contemporaneamente certo fai una pulizia completa faccio solo il frenolo corto in alcuni casi in altri faccio tutto e due contemporaneamente però voglio dire l'attività sessuale deve essere una cosa piacevole non può essere una cosa che uno viene sgozzato lì e viene tutto il sangue che zampilla che poi mette molta paura poi crea disagio è uno shock inutile non serve a niente se il frenolo è corto intanto ho detto si vede nel corso di una visita e ce lo riferisco a quello in alcuni casi se si tratta di una sclerosi diciamo così di un fatto che è molto secco magari con alcune creme idratanti un po' migliora nella maggior parte delle volte va proprio trattato ma è un intervento stupido cioè che si fa in pochissimo tempo sì sì chiaro prossima domanda io sono circonciso fin da piccolo essendo musulmano però ho il pene lungo 12 centimetri volevo sapere la circoncisione quanti centimetri sacrifica? infatti e come si fa ad avere più sicurezza senza avere idee di allungarselo in qualche modo? ciao allora qui non siamo intanto diciamo che questa è una trasmissione per parlare della circoncisione e non di tutte le altre patologie come per esempio quello dell'allungamento del pene o le dimensioni del pene perché sennò qui apriamo troppi capitoli troppi capitoli ma perché i ragazzi ovviamente mi hanno fatto un po' tutte le domande chiaramente ma io rispondo non c'ho problemi però voglio dire che se noi focalizziamo sulla circoncisione almeno concludiamo un argomento perché se sono 250 le domande qualche che c'è bisognerebbe parlare che cosa fa la prima notte all'intervento quando si può fare la doccia dopo l'intervento quando si può riprendere e fare senso ci sono tante domande e glielo detto è meglio secondo me se li elenchiamo noi perché di domande ce n'è di tutti questo qui di quanto riguarda le dimensioni del pene è tutto da vedere perché bisogna vedere quanti anni c'è a sto ragazzo ok e poi non c'è soltanto la lunghezza c'è anche la circonferenza e poi c'è da valutare lo sviluppo pulberale cioè come è avvenuto e come sta avvenendo o come è avvenuto perché non l'abbiamo visitato sto ragazzo quindi a questa domanda non si può rispondere ci sono delle risposte che lui diciamo potrebbe avere facendo una visita da uno specialista andrologo che lo aiuti a capire se effettivamente esiste un problema o rientra nella normalità allora io le faccio una proposta perché so che poi fra poco deve andare allora proviamo a parlare dell'intervento genericamente per questi dieci minuti che ci rimangono poi se ovviamente lei ha tempo facciamo una facciamo una live solo di domande più ampio così anche chi è stato oggi in live può proporre le sue tante cose ha già risposto quindi non ci saranno più le domande ci saranno lo stesso posso ripetere insomma che ne dice le piace come piano divertente mi piace poi la chat devo dire sono tutti molto molto interessati e sono quindi siamo 4.000 le domande che io non le vedo le domande io non le posso vedere le domande posso condividerle il file ma no in diretta così magari ne prendo una o due che penso che possono essere utili si può fare per la prossima volta ma adesso non lo non lo non lo non lo allora proviamo a parlare dell'intervento in generale ci sono alcune cose che possono essere utili allora la prima cosa è la durata dell'intervento ho detto se si usa questa sudduratrice circolare automatica che fa durare l'intervento un minuto questa è un'innovazione tecnica degli ultimi due o tre anni che rende l'intervento rapido cioè un minuto contro 30 minuti praticamente non c'è più dolore perché è talmente veloce che non c'è dolore e poi anche nel posto operatorio non c'è dolore e senza anestesia con questa no no con l'anestesia con l'anestesia ma anche con l'anestesia nell'intervento classico un po' di fastidi ce l'hai sempre questo invece molto di meno perché è un taglionetto immediato quindi superato quei 10-15 minuti di intervento è molto più semplice poi per quanto riguarda invece le perdite di sangue con questo intervento sono ridotte di 8 volte che non è poco perché la formazione dell'etema dell'infiammazione ci mette più tempo a guarire mentre invece essendo tutto quanto ridotto di 8 volte la guarigione avviene molto prima cioè il pene rimane della sua forma non si gonfia e questo fa sì che la cicatrice finale è molto più lineare e non ci abbiamo come ho detto quei salcicciotti che molto spesso si possono avere col trattamento tradizionale è chiaro che però poi bisogna vedere caso per caso quello che bisogna fare cioè tutte queste cose che noi stiamo dicendo non possono sostituire il rapporto medico paziente no chiaro il caso va a sé e ogni caso va affrontato in una situazione di fiducia col proprio medico andrologo di fiducia quindi allora detto questo parliamo della prima notte che è la prima cosa più importante siccome sono trattamenti ambulatoriali uno andrà a casa con una medicazione intorno al pene vediamo un po' se riesco a inquadrare qua ecco così qual è il problema è il dito è il dito è il dito se riesco a fare vediamo se riesco a capire questo esempio che succede che con la medicazione scusate ma mi faccia ridere prego con la medicazione vedi vediamo un po' uno si ritrova con la medicazione che sta così lo vedi non riesco a inquadrare ecco allora che succede che dal buchetto qua esce la bb per 7-8 oltre durante la notte e quindi quando va a fare la bb bisogna tirare un pochettino indietro la garza in maniera che esce fuori come una specie di testolina che eccomi sono qua in maniera che una possa fare la bb senza bagnare la garza perché sennò si inzuppa la garza ora non succede niente cioè non è che c'è l'infezione o l'intervento va a finire e male però meglio evitare uno sta tutta la notte con la garza a zuppa che non è una cosa poi generalmente io nella mia pratica il giorno dopo rifaccio la medicazione perché so che non tutti riescono a tirare indietro un po' perché vedono il sacco un po' perché hanno paura si non si capisce bene all'inizio tirarlo un pochino indietro in maniera che esce fuori il glande capito perché normalmente la medicazione sta così vedi in cui il glande sta dentro e se uno va a fare la pipì così inevitabilmente bagna la garza se invece uno la tira un pochino indietro e fa uscire il glande come adesso sto facendo riesce a fare la pipì senza bagnare la garza certo qualche goccia ci andrà sempre ma ai miei tempi mi dissero che io cioè io mi rifacevo la medicazione da solo ogni volta che andavo a urinare no non conviene ti spiego perché perché la garza della prima medicazione quello che si esce dalla sala operatoria ha una funzione di stringere il pene ed evitare che si gonfi ah ok più si tiene stretto nelle prime 12-24 ore e più il pene non si gonfia e quindi guarisce prima non succede niente però insomma uno si esaurisce tutto in due o tre giorni anziché in un mese sì sì no ma forse in effetti in realtà la prima infatti la prima volta che ho urinato ero in ospedale hanno aspettato che dovessi orinare e poi con un'infermiera abbiamo fatto tutte cose perché c'è il rischio cioè però a casa ho detto siccome devi fare la pipì 4-5-6 volte questa cosa che ho detto di tirare indietro la garza leggermente facendo attenzione di non bagnare la garza con la pipì è una cosa molto utile perché mantiene asciutta la medicazione che così ti dura quelle 12-24 ore che è il tempo necessario perché inizia perché così il pene non si gonfia perché è una medicazione abbastanza stretta perfetto poi la seconda cosa sempre della prima notte è che ci possono essere delle goccioline di sangue questo è normale va bene perché facendo un intervento chirurgico dalla ferita qualche goccetta può uscire alla fine che su alcune goccette va bene se invece la garza si inzuppa di sangue questo non va bene e bisogna anche qui tamponare la situazione stringendo il pene con una mano così perché per fortuna è un organo esterno e andare o al pronto soccorso o dal medico che l'ha operato perché stringendolo il pene sto dicendo così va bene stringendolo così si blocca il sanguinamento chiaro quindi se c'è qualche goccetta di sangue non vi preoccupate fa parte della normalità se invece la garza si inzuppa vuol dire che forse un'erezione ha fatto saltare un punto questo è anche un tema questo è un tema generalmente non deve succedere in più io ci metto sopra il pene del ghiaccio ma bisogna fare attenzione al ghiaccio attenzione anche qui bisogna vedere caso per caso quindi non è una regola generale che io consiglio di fare a tutti ma di far seguire sempre quello che dice il proprio chirurgo questo è quello che consiglio i miei pazienti cioè di mettere a momenti alterni un peso di ghiaccio quelli stick che stanno in frigorifero per le borse del freddo ma facendo attenzione perché più di 10-15 minuti non deve essere perché poi si ustiona perché siccome è stato anestetizzato non si sente più la sensazione del fastidio e quindi un ghiaccio per troppo tempo può portare a delle ustioni quindi uno ce lo può mettere sopra per 10-15 minuti e poi stare un'ora o due ore senza ghiaccio chiaro un altro aspetto che può succedere la prima notte ci sono altre due cose dobbiamo dire per la prima notte è se ci dovesse essere del dolore generalmente con una tachipirina passa se questo dolore non viene controllato da una tachipirina conviene chiamare il proprio chirurgo o andare a pronto soccorso io lascio sempre il mio cellulare perché le persone cover in maniera che sono reperibili per le prime 24 ore certo perché la prima notte è molto importante sì nel senso che la prima notte è quella che condiziona alla rapidità della guarigione che può avvenire in pochi giorni una settimana oppure in un mese che fa la differenza perché non è che succede niente però è più comodo voglio dire e poi l'ultima cosa che bisogna sempre qui fare cose che può esserci la febbre ma anche questa un evento raro si combatte con una tachipirina insomma queste sono le cose della prima notte la seconda cosa che mi chiedono è quando cadono i punti allora ci sono due tecniche come ho detto una con la suddura manuale dove ci sono dei punti va bene che si riassorbono generalmente in tre settimane e cadono da soli confermo poi sulla sudduratrice automatica c'è una delle grappette metalliche che cadono invece dopo quattro settimane però tutto questo ma alle volte anche prima diciamo il termine massimo è quattro settimane dalle tre alle quattro settimane oggi per esempio mi ha chiamato un paziente che gli so passare due settimane sono cadute dopo due settimane due settimane è proprio il minimo però va bene ora la ciazzi è spaventata metalliche ma non è non immaginatevi quelle della pinzatrice credo no no sono metalliche perché non sono di materiale riassorbibile però siccome si fa tutti in anestesia tanto quelli poi cadono da sole cadono da sole sì 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 perché devono accostare i lembi capito cioè la grappetta è una specie di grappetta che ha e consente la cicatrizzazione perché quando voi quando tagliate il prepuzio vi rimane uno cioè un giro e poi quello interno quindi ci avete tutto aperto e lì con i punti io ad esempio avevo quelli che si riassorbono e tutto pipipipipi intorno e poi a un certo punto mentre mi lavavo ho fatto così stacca e si staccano dopo circa tre settimane mi è successo sì allora quindi i punti cadono come ho detto dopo tre settimane naturalmente in questo periodo bisogna fare un controllo una visita io lo faccio dopo 24 ore e a seconda delle situazioni poi va ripetuto uno o due volte a secondo dei casi dell'andamento della guarigione poi l'altro aspetto importante è quando si può fare la doccia allora io consiglio di inizialmente lavarsi a pezzi e di al massimo metterci l'acqua corrente se uno si deve fare una doccia può usare dopo che ha tolto la medicazione può usare un preservativo in maniera che lo copre la ferita però bisogna fare attenzione perché se tu il preservativo lo srotoli questa cosa non va bene quindi bisogna prendere i preservativi extra large quelle che uso sempre ecco e che tu questa era dovuta era dovuta in maniera che nello srotolarlo tu non fai la trazione sulla parte della pelle capito certo però se uno può evitare se lava a pezzi sotto evitando che l'acqua sporca dei capelli vada a finire sulla ferita perché questo è il problema ma questo per 8-9 giorni comunque in questo periodo io per esempio per quanto riguarda l'attività sportiva dipende da che attività sportiva stiamo parlando cioè se uno dice io devo fare la finale della coppa dei campioni allora la circoncisione la fai dopo eh per forza se è un'attività amatoriale rallenterei anche perché poi ti devi fare la doccia in un posto dove non sei sotto controllo sì 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 quindi non conviene quindi per 8-9 giorni uno non si allena se devi fare una cosa amatoriale sì come diciamo stop della vita io penso di aver fatto credo che in 5-5 giorni cioè che poi magari ho anche esagerato dal punto di vista no guarda dal punto di vista della ripresa dell'attività fisica cioè dell'andare a scuola studiare un'attività di computer 2-3 giorni e poi torni a scuola o vai in ufficio dai io ho fatto una settimanella ne ho approfittato per quanto riguarda invece un'attività moderata poi pure con un riprenderla a fare cioè andare in bicicletta andare col motorino guidare la macchina poi dopo 3-4 giorni io parlo dell'attività sportiva che poi implica che devi fare la doccia in uno spogliatoio dove poi non riesci a mantenere quell'igiene che puoi fare a casa ecco chiaro chiaro però se vai a fare la corsetta per conto 2 e poi te la vai a casa con l'acqua senza sapore che va dalle parti sporche verso la ferita o utilizzando un preservativo diciamo che dopo 7-8 giorni prima non lo toccherei perché la ferita è troppo fresca e quindi rischi che magari riapri la ferita e allora la guarigione è molto più lenta no la guarigione è molto più lenta giusto giusto e poi sul tema delle erezioni cioè io mi ricordo prima dell'intervento io mi sono amato 5-6 volte così per un giorno ero tranquillo però poi inevitabilmente di notte cioè allora i punti vengono messi a prova di erezione bene va bene quindi questa le punti reggono questa situazione sono messi apposta in una certa maniera perché però è chiaro che se uno dovesse avere un'erezione che ne so cominciare a pensare a topolino alle tasse all'esame di scuola che deve fare giusto non ti metta a guardare un filmetto su youporn ecco è giusto è giusto è giusto se te lo guardi dopo eh aspetti aspetti poi ecco quando questo secondo me è una domanda un po' così nel senso che alla fine uno poi si conosce cioè non è che ci sono delle dei tempi che devi per forza rispettare quando è che si può riprendere magari l'attività di masturbazione o addirittura fare all'amore dopo che sono caduti i punti o diciamo ancora più precisamente non è esattamente dopo dopo almeno un mese ok almeno un mese e bisogna anche lì cominciare con una certa prudenza cioè perché bisogna avere pure la cicatrice come sta andando cioè si chiusa bene quindi ci vuole in qualche maniera la visita di controllo del medico del chirurgo che ti dà la benedizione e poi riprenderla non mettendosi lì attraverso una maratona sessuale sì ecco non proprio un orgione si inizi con un morigerato missionario sempre col buon senso ecco col buon senso piano piano non riprende e più passa il tempo e più sei sicuro che la ferita non si riapri diciamo che il limite formale è dei 30 giorni però è bene che ci sia una verifica caso per caso e poi è bene insomma ricominciare piano piano senza mettersi lì che uno poi bisogna poi bisogna anche imparare a conoscersi cioè nel senso è proprio diverso cioè non l'hai mai visto così devi capire cosa cioè è un processo comunque quindi sì e sto cercando di ripensare a me cosa ah ecco secondo me c'è una fase dove medicalmente sei a posto cioè puoi fare già le cose però io ricordo ero andato dal mio urologo e mi fa ok adesso basta medicazione i punti erano caduti basta medicazione vai cammina però il glande era veramente 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 sensibile quindi io la garzetta me la sono ancora tenuta qualche giorno perché certo la garza o eventuali creme non è che vanno viste caso per caso perché chiaramente se uno c'è una fimo si sotto c'è un'infiammazione cronica spesso e questa infiammazione deve passare cioè non solo l'infiammazione dell'intervento chirurgico ma l'infiammazione del glande sottostante a una pelle che sta lì che non è stata lavata che non è stata disinfettata per tanto tempo e quindi quella si deve prendere diciamo che un ritorno a una normalità completa come se uno fosse sempre non fosse e ci vogliono molti mesi sono d'accordo io credo tre mesi in tre mesi poi ero veramente a posto ma ho detto non si può fare una data precisa no 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 certo in alcuni casi arriva anche a sei mesi però ho detto ovviamente da casa a caso però da qualche parte bisogna cominciare non può stare tutta la vita con la Fimosi quindi tre mesi quattro mesi sei mesi quello che sia devi mettere un primo giorno sì ma va benissimo cioè secondo me tutti i grandi viaggi diceva un grande uno storico della politica iniziano da un primo piccolo passo quindi bisognava un primo piccolo passo per poter fare questo viaggio ed è chiaro che la ripresa della normale attività ci vorrà un po' di tempo e alcune volte sono sufficienti 45 giorni due mesi altre volte ci vogliono alcuni mesi sì sì la parte secondo me dove diciamo hai proprio ti stai accorgendo che hai che stai facendo cose secondo me dura una volta che sono caduti i punti sì magari devi fare io mi ricordo ad esempio che l'accappatoio quando me lo mettevo col glande fresco sensibile mi faceva un po' uh così e dovevo stare attento però sti cazzo cioè poi nel tempo uno si abitua e va bene così però secondo me come impegno temporale diciamo non è molto secondo me non è un intervento invasivo dal punto di vista di come ti cioè il guadagno che hai è infinitamente superiore anche perché l'alternativa è veramente avere sempre sto pensiero oppure proprio non puoi fare sesso cioè io ad esempio non potevo fare sesso era impossibile perché proprio non no ma poi c'è dei ragazzi che hanno dolore cioè che se quando stanno lì evitano l'incontro con una ragazza perché se solo glielo tocca con le mani gli dà dolore ah certo perché poi la ragazza magari non sa non sa oppure sono costretti a masturbarsi non secondo lo schema classico ma rovesciati sul letto strusciandosi sul materasso o sul cuscino perché quella è l'unica maniera per potersi stimolare perché la stessa masturbazione può determinare dolore certo e quindi questo condiziona la qualità della vita e delle scelte voglio tornare però prima di tornare al discorso iniziale cioè quello che impedisce nella stagganda maggioranza dei casi una rapida soluzione ho detto sono problemi di carattere culturale va bene e poi della paura che molti ragazzi hanno e che devono per poter prendere questa decisione devono essere accompagnati in questo loro percorso da una persona esperta che li rassicuri che gli racconti quello che succede che risponda a tutte le domande che si crei un rapporto fiduciario in maniera che lui possa affrontare serenamente un intervento che si fa da 5.000 anni dai tempi egiziani prima ancora non so quindi è una cosa che si può risolvere e che voglio dire che a molti ragazzi se hanno la fimosi se hanno la fimosi di rivolgersi al proprio andrologo di fiducia per iniziare questo percorso e io direi che questo non lo farei invece in intervento chirurgico se è la fidanzata che ve lo chiede ah ok ok in realtà tra le domande c'era una ragazza che diceva c'è il mio ragazzo che ha la si vede se ci vede la fimosi ma ci sono alcuni ragazzi che perviscono il pene circonciso rispetto al pene non circonciso perché è un altro capitolo quindi facciamo attenzione non stiamo parlando di una ragazza che dice al proprio ragazzo c'era la fimosi quello è una cosa buona no infatti lei diceva come faccia a dirglielo che no stiamo parlando di quelli che invece non sono circoncisi perché adesso c'è questa moda ho detto cioè fare questo intervento per motivi estetici o per motivi di moda eccetera però questo è un altro film noi parliamo soltanto di una condizione medica e cioè in cui c'è un disturbo di scorrimento del prepuzio perfetto beh io direi dottore ci ha dato tantissime informazioni utili che anche per me che mi ritenevo già non dico un esperto di cazzi ma uno che ne mastica in senso metaforico mi ha veramente fatto capire molte cose quindi la ringrazio infinitamente per il suo tempo e la sua professionalità e invitato a rispondere alle domande che ho già raccolto ma che raccoglierò ancora sicuramente dalla chat qui la stanno applaudendo fortissimo e mandando i cuori e c'è un grande amore nei suoi confronti e ma molte di queste informazioni ho detto le potete trovare sul canale youtube giuseppe ecco giusto mettete in chat il link se riesci generatore è il mio moderatore se riesci generatore a mettermi il link del canale e poi su una landing page tutto sulla circoncisione ok eccolo qua ecco qua stanno mettendo il canale andate a fare subscribe così facciamo anche siete 4.000 almeno 2.000 subscribers in più per il canale e poi parleremo appunto nelle prossime volte se volete questi altri capitoli che sono le problematiche del pene piccolo che è una delle cose che angoscia moltissimi ragazzi le problematiche dell'ejaculazione precoce le problematiche della disfunzione retta e dell'insuccesso durante il periodo giovanile perché uno pensa che i ragazzi a 20 anni o a 15 anni diciamo che siano tutti performanti e che quindi siano lì come dei martelli pneumatici che sfondano tutto e non li ferma nessuno in realtà esiste un 10 15% di ragazzi che ha un problema di erezione e che ha difficoltà alla penetrazione esiste poi un altro 15-20% di ragazzi che ha un problema di eagulazione precoce ma su questi temi dobbiamo fare delle trasmissioni ad hoc ad hoc qui la stanno amando tutti quindi se lei ha il tempo e la voglia è sempre benvenuto anzi la ringrazio ancora perché secondo me abbiamo fatto una cosa molto bella molto bella qui l'età è anche quella di cui abbiamo parlato ragazzi molto giovani e se non è la politica se non è la scuola se non è la famiglia a dare queste informazioni noi con umiltà sono contento che siamo riusciti a dare questa piccola finestra allora approfitto di questo spazio per fare una chiosa importante perché una informazione importante riguarda la scuola e quindi io mi rivolgo non tanto ai ragazzi quanto a quelli che propugnano di fare l'educazione sessuale nella scuola e io su questo ho una mia posizione che vorrei spiegare che noi non dobbiamo fare l'educazione sessuale nella scuola perché è una parola sbagliata cioè che non dice esattamente le cose come stanno noi dobbiamo fare l'informazione della salute sessuale cioè dare l'informazione la parola educazione è una parola divisiva che crea un dibattito politico sociale inoltre noi che diritto abbiamo di andarci a sostituire genitori che vogliono fare loro la loro educazione perché la parola educazione implica una scelta etica una scelta morale ma se uno ha la Fimosi non è né a scelta etica né a scelta morale o politica è una scelta medica è una scelta medica quindi se noi già riusciamo a risolvere i problemi medici di tutti i ragazzi che sono tanti facciamo un passo sociale e culturale enorme dopodiché tutte quelle che sono le scelte di come si fa l'amore se si fa prima del matrimonio dopo il matrimonio tutte quelle aspetti che riguardano la parte etica si faranno successivamente ma intanto mettiamo a posto in salute l'apparato genitale e poi ognuno in base alla propria storia sensibilità educazione farà le sue scelte morali ma se noi invece proponiamo di andarci a sostituire attraverso l'educazione che funziona dire educare quindi ci sostituiamo o a dei sociologi o a dei preti o ai politici o ai genitori andiamo a fare un'invasione di campo che non consente poi e questo l'errore e questo l'errore di poter invece curare quelli che possono essere curati perché a quel punto si blocca tutto certo è una precondizione che poi serve anche all'educazione per assoluto l'informazione ci deve essere deve essere fatta bene io sono sono molto contento di poter aver fatto poco ma grazie a lei tanto su questo è un ruolo importante e ho detto questo io credo molto nel ruolo vicario della stampa nell'informazione perché quando si muoveranno le istituzioni per dare delle risposte alle famiglie ai genitori e ai ragazzi sarà da qui a vent'anni nel frattempo però molti cadranno in una serie di trappole e avranno la vita condizionata cose stupide invece attraverso la stampa e l'informazione possiamo dare intercettare dei problemi che sono risolvibili perfetto e su questo dottore grazie mille la abbraccio virtualmente le auguro una lieta serata e un lieto weekend grazie anche a voi ciao 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 ciao